Da oltre un ventennio, la DS Group è presente nel settore delle chiusure lampo e accessori per l'abbigliamento. Disponiamo di un'ampia gamma di chiusure lampo di nostra produzione, importati e nazionali, oltre ad essere distributori ufficiali del marchio YKK. Inoltre, avendo a disposizione una tintoria industriale e di macchine spaziatrici, possiamo fornire chiusure lampo in oltre 240 colori, anche fuori misura, e siamo in grado, in tempi brevissimi, di garantire prodotti testati nella qualità. Inoltre, supportati da primarie aziende nazionali ed estere, siamo in grado di offrirvi i seguenti prodotti. Bottoni jeans, bottoni a pressione, elastici, nastri, accessori in genere, minuterie in metallo e plastica, copriabiti, buste e borse. Grazie 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 Grazie